Amici benvenuti nella mia cucina, potete vedere in cottura un grande fusillo, il gran fusillo trafilato a bronzo accompagnato con un poco gai, gai, speck e zafferano grazie al tavolo 4, ottengo il totongo, non mi stia, vabbè tutto zafferano con la cucina è normale, ti piace? Oh e dici a cinema o canno! E dopo il fusillo trafilato al bronzo di Alessio Falsone, chi c'è qua? La nostra Greta Rossetti, lei è sempre di ottimo umore, abbiamo già visto i video precedenti, non ve li perdete con Sergio Dottavi che fa sbaccanare tutta la famiglia Rossetti, questi due sono una coppia ben assortita, io li adoro, ma guardate che bene che sta Greta, l'effetto finale, top bianco e questa tutina che si allarga, bellissima, una magia ci ha fatto. Vabbè, adesso vi lascio per una volta con Marco Fortunati, non lo vediamo da un po', si è fatto l'acquisto di questa televisione con la fidanzata Rebecca e ci vediamo al prossimo video del grande fratello, un bacio, ciao! Posso dire? Non vedo l'ora di averla in salotto, è un po' grandicella qua, è un po' grandicella.